Musica Venerdì 29 novembre, buongiorno, benvenuti al nostro Tg del mattino. Nonostante gli impegni per abrogare il nuovo articolo 7, alcuni consiglieri regionali hanno già presentato la richiesta per contrattualizzare il loro portaborse. Intanto Clemente Mastella ha aderito a Forza Italia. Sentiamo Giovanni Minicozzi. Dopo la pubblicazione sul bollettino ufficiale della legge Frattura Niro che ha regolamentato l'articolo 7, l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha elaborato il contratto tipo che dovrà essere stipulato tra i cosiddetti portaborse e lo stesso ufficio di presidenza. In queste ore però, gli uffici preposti alla contrattualizzazione dei collaboratori scelti dai singoli consiglieri hanno evidenziato alcune criticità della nuova legge. In particolare i funzionari hanno sollevato il problema della titolarità del rapporto di lavoro, che secondo loro dovrebbe appartenere ai singoli eletti e non al Consiglio, nonché il tema della scadenza contrattuale per evitare vertenze a danno dell'ente. Dunque la situazione resta ingarbugliata, ma intanto tre consiglieri regionali hanno già presentato la richiesta per stipulare il contratto con i loro portaborse. Sono Massimiliano Scarabbeo, che lo ha chiesto per tre collaboratori, ovviamente dividendo l'importo complessivo di 2.451 euro, e poi Vincenzo Niro per Anna Maria Passarelli e Cristiano Di Pietro per contrattualizzare Simona Contucci, consigliere provinciale e tesoriere dell'Italia dei Valori. Dopo che la maggioranza avrà rinunciato, aboliremo a quel punto, definitivamente così a scanso di equivoci. Evidentemente l'impegno assunto dal Presidente Paolo Frattura con le Iene non potrà essere mantenuto. Tra l'altro la proposta di legge per abrogare il fondo dei portaborse, presentata da Nunzia Lattanzio e licenziata dalla prima commissione circa un mese fa, seppur con parere negativo, non è stata ancora iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea regionale. Dunque per adesso non se ne parla, nonostante le vibrate e reiterate sollecitazioni della Lattanzio. Intanto sul versante politico il capo dell'Udeo, Clemente Mastella, ha aderito alla rinata Forza Italia e sarà ricandidato alle prossime europee da Silvio Berlusconi. Resta da capire cosa farà il suo braccio destro, Vincenzo Nino, eletto Presidente del Consiglio con i voti del centro-sinistra. Ironia della sorte. Tutto questo succede all'indomani della chiusura della GAM con un migliaio di famiglie abbandonate a se stesse. Non c'è che dire, un bel regalo di Natale. Infrastrutture e trasporti, le carenze del Molise. Questi temi che saranno affrontati stasera nella trasmissione Moby Dick in diretta in onda a partire dalle 21. Ospiti in studio Giuseppe Larivera, responsabile relazioni esterne dell'ATM, l'azienda Trasporti Molise. Il Presidente dell'ACEM, Corrado Di Niro. Il Presidente del Forum del Trasporto Pubblico Locale, Filippo Poleggi. Il Sindacalista del settore della CGL, Giorgio Simonetti. E l'Assessore regionale, Pierpaolo Nagni. Ci sarà anche il contributo esterno dell'ex Assessore regionale Trasporti, Luigi Velardi. E' stata rinviata l'udienza preliminare al Tribunale di Isernia sul caso del bimbo morto durante il parto all'ospedale veneziale nel 2011. Il GUP ha deciso di chiedere chiarimenti al medico legale che effettuò l'autopsia. Cinque le persone coinvolte nella vicenda. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. Prima udienza preliminare al Tribunale di Isernia per il caso del bimbo di Rocchetta morto durante il parto al Veneziale. Per questa vicenda il pubblico ministero, Marco Gaeta, ha chiesto il rinvio a giudizio di cinque persone, tra medici e paramedici. Nei loro confronti è stato ipotizzato il reato di omicidio colposo. Il GUP Antonio Ruscito ha aggiornato l'udienza il 29 gennaio prossimo. Prima di prendere decisioni, il magistrato intende infatti approfondire alcune questioni ascoltando Lucia Broccoli, il medico legale che effettuò l'autopsia. Nella sua relazione si parla di sofferenza sfittica durante il parto, ma questo evidentemente non basta. Con le domande che rivolgerà la nato buon patologo, Ruscito intende chiarire altri aspetti tecnici prima di decidere se processare o meno gli imputati e se eventualmente disporre il non luogo a procedere per una o più persone coinvolte in questa vicenda. Subito dopo l'escussione della professionista che effettuò l'esame autoptico, è prevista la discussione, al termine della quale il giudice per le udienze preliminari trarrà le sue conclusioni. La decisione di Ruscito di procedere con un ulteriore approfondimento è stata accolta favorevolmente da Francesco Dorsi e Marco Pontarelli, avvocati di fiducia dei genitori del bimbo. Per noi va più che bene, hanno detto, perché non siamo alla ricerca di un colpevole qualsiasi, ma degli effettivi responsabili dell'accaduto. La tragedia si verificò nel giugno del 2011. Durante il parto ci furono delle complicazioni. Subito dopo la morte del piccolo Marco, il padre si rivolse alla squadra mobile. La madre aveva chiesto il cesareo, dissero all'epoca e due legali, ma si preferì procedere diversamente. Il responsabile del reparto, subito dopo l'accaduto, parlò di evento raro e imprevedibile. Il bimbo rimase cioè incastrato con le spalle nella delicata fase dell'espulsione. È tutto per la nostra informazione, adesso spazio alla rassegna stampa. Partiamo con il giornale del Molise.it che titola così La GAM chiude gli impianti, Leucata rinuncia nella regione, nel frattempo tace, è il titolo dell'articolo di Anna Maria Di Matteo. Quanto dichiarato dall'amministratore unico della GAM, Nicola Baranello, alle RSU qualche giorno fa, è stato drammaticamente confermato nei fatti. Da ieri l'impianto di macellazione dei polli e il mangimificio sono chiusi, resta aperto solo l'incubatore per l'allevamento dei pulcini, per onorare il contratto ancora in essere con l'Avimec. Dunque non si allevano più polli, la filiera è ferma. Vediamo le altre notizie del giornale del Molise.it Emergenza neve 2012, le ditte i privati alla regione, mantenete le promesse, pagateci il lavoro svolto. Poi termoli, aule, gelide in via Stati Uniti, sindaco incontra i genitori per risolvere il problema. Quinto assessore, Cotugno all'attacco, mai chiesto uno strapuntino. Ancora cadavere di una donna ritrovato lungo la spiaggia di Vasto, la procura ha disposto l'autopsia. Giù le mani dal Volturno cresce la protesta contro la centrale idroelettrica. Di Giacomo al Senato le congratulazioni di De Matteis, poi Isole Tremiti, un fulmine colpisce la storica chiesa di San Nicola, ingenti i danni. Provincia di Sernia tagliate le indennità dei politici, ridotti bonus ai dipendenti. Ci sono poi le notizie dall'Italia e dal mondo. Primo piano, Molise, si ferma la GAM, scoppia la rivolta. Chiude il macello ma la regione assicura e per la necessaria ristrutturazione batosta per gli operai. Oggi la rinuncia ufficiale di Leocata, Frattura dice, noi continuiamo a lavorare al progetto di rilancio industriale. La scelta per l'8 dicembre è primaria del Partito Democratico. Il governatore scende in campo con Matteo Renzi, capolista dei candidati che appoggiano il Rottamatore. Presentate anche le squadre di Cuperlo e Civati. Campobasso, Pietrarca, Lascia, Ludeure, si avvicina la nuova Forza Italia. Il sindaco di Bartolomeo chiarisce, sta con me. Il boss in Molise sciocca a Larino, Sandocan si nascose nelle campagne della cittadina. Rimase in una masseria prima della cattura nel luglio del 1998. Montenero di Bisaccia, automedica contro ambulanza in quattro ricoverati all'ospedale. Mafalda svaliggiata alla sede della protezione civile, i ladri rubano picci, targhe e arredi. Rionero Sannitico, paura a bordo, il pullman finisce fuori strada. La corsa delle 14 era piena di studenti. Ultimo ora, commando armato, semina il panico tra Boiano e Venafro. Ancora pochi, ma tuttavia raccapriccianti dettagli della notizia. Al momento di andare in stampa, scrive, primo piano, cinque malviventi stranieri si sono introdotti nell'abitazione di un imprenditore di Boiano. Lo hanno malmenato e si sono fatti consegnare oro preziosi e contanti. 1.500 euro che l'uomo custodiva in casa. Vasto, dunque, notizie dall'Abruzzo, ritrovato cadavere in spiaggia e di una donna scomparsa domenica scorsa. Il corpo rinvenuto da un passante a punta ad Erci. Per lo sport, Isernia, no, degli atleti a Mazzullo, Termoli, quattro contratti in scadenza. Eccellenza, lupi, il ritorno a Romagnoli, slitta almeno a gennaio. Il quotidiano del Molise, primarie del PD, frattura si candida. Presentate ieri sera alle 20, anche le liste regionali per Cuperlo e Civati. Assente Petraroia, il governatore scende in campo in prima persona per sostenere Renzi. In alto, abolizione dell'Imu dopo i fabbricati, ruta punta ai terreni. Il senatore, l'obiettivo è valorizzare il Made in Italy. È attesa la sentenza del giudice Di Giacomo, ineleggibilità di Cotugno. Round di attesa per rialzati Molise. Situazione critica alla GAM, ma la regione non molla. Il presidente rassicura, sapevamo già, di Leocata. Cantalupo, impantanato nella neve, chiede aiuto, ma deve dire addio all'auto. Trasporti Roma a Campobasso, 5 ore per arrivare in stazione. E poi la perturbazione, Nettuno, allarma i meteorologi, preparatevi al ciclone. Le previsioni parlano di nubi frage e bombe d'acqua sul litorale. Campobasso rapina la sala slot, ottiene ai domiciliari la donna del basista. Rio Nero Sannitico bloccato per ore, il bus di studenti finito nella Cunetta. Per quanto riguarda lo sport, Serie D, la gara tra Agnone e Civitanovese in anticipo il 7 dicembre. Lupi, una giornata di squalifica a Scudieri. Domani c'è il Vairano. Le pagine interne del tempo. Di Giacomo dimettermi per rispetto del Cavaliere. Ma il quel seggio non era suo, spettava a me il senatore che ha preso il posto di Silvio. C'è l'intervista realizzata da Carmen Sepede a Ulisse Di Giacomo. Vediamo poi le altre notizie relative al Molise. Boiano, macchine vecchie, stop alla macellazione. Si ferma la produzione alla GAM per l'amministratore delegato ai mezzi. Sono insicuri altri 80 lavoratori in cassa integrazione e 270 operai senza lavoro. Parco archeologico dell'Alto Sannio. Il progetto e poi termoli, tumori raddoppiati, colpa delle industrie. Polemiche in regione Rialza-Timolise. Non vuole il quinto assessore. Monitoraggio del Radom anche nella scuola esclusa a Termoli. E poi Isernia, neonato morto, la parola all'anatomo patologo. Altra testimonianza prima di decidere se rinviare a giudizio i cinque medici indagati. Campobasso senza soldi per l'emergenza maltempo, ma c'è da pagare gli spalatori del 2012. La prima ondata di neve dell'inverno ha già prosciugato le casse degli enti. Mille imprese ancora in attesa di ricevere i fondi stanziati due anni fa. Asfalto ghiacciato, autobus fuoristrada a Rionero-Sannitico. Macerone, oltre alla frana, si muovono anche i tecnici. Isernia si sblocca l'iter per i lavori sul tracciato alternativo a valle dello smottamento della strada, cominciato nell'aprile scorso. Vediamo le notizie del Sannio, quelle relative al Molise. Fran al Macerone, due progetti sono stati presentati e consegnati al comune di Isernia che dovrà realizzare la bretella stradale ieri. Intanto tavolo tecnico in provincia, problemi alla circolazione stradale per diverse contrade cittadine. I quotidiani nazionali, la Repubblica Napolitano Letta torni in Parlamento. Forza Italia al Colle, è crisi formale. Il Premier ne uscirò rafforzato. Il Quirinale è cambiata la maggioranza, va sancita la discontinuità politica. Legge elettorale si muove il Governo, Alfano, noi determinanti. Davendo la clini i segreti del sistema, il va Taranto nelle 50.000 intercettazioni telefoniche e anche le relazioni pericolose tra la famiglia, Riva e il potere politico. Il Corriere della Sera. Verifica in aula per il Governo. Napolitano riceve Forza Italia. Serve un passaggio parlamentare, Palazzo Chigi, così la maggioranza si rafforzerà il nodo dei sottosegretari azzurri che non lasciano. Berlusconi si rilassa, mi sento un leone. Si riapre il caso dei Marò, ipotesi pena di morte, ma Bonino smentisce. L'India sta per formalizzare le accuse contro i due italiani. Vediamo come titola adesso il tempo. Rimborsi d'oro in regione. Indagato il portavoce di Marino. L'inchiesta si parla dunque del Consiglio regionale di Roma. I PM di Rieti iscrivono anche il PD Montino. L'accusa pranzi, acquisti e fatture alterate con soldi pubblici. Il rigore di Maradona a Equitalia, parla Diego. Lo sconto dice non tiro fuori un euro. Il giornale truffa sulla casa. Dopo la cacciata di Berlusconi, il regalo del governo Limu sparisce, ma solo per finta, scrive. Forza Italia obbliga Napolitano a smentire se stesso. E il Premier dice chieda la fiducia all'Aula. La gara fra gli sciacalli, continua il giornale. Il Cavaliere l'ho ucciso io. E poi c'è scritto sopra il Duoletta Alfano. Dal giornale passiamo a vedere adesso come titola Libero. Ecco i comuni dove Limu si paga. Beffa sulla prima casa. 873 sindaci continueranno a riscuotere l'imposta. Da Roma a Milano l'elenco dei principali capoluoghi del Salasso e quanto si dovrà versare. Ora il Cavaliere senza difesa. Almeno tre procure in gara per arrestare Berlusconi. Scrive ancora Libero. Avvenire il quotidiano dei Vescovi. Imu, grana infinita. Napolitano a Letta servirà un passaggio parlamentare rivolta dei sindaci contro il governo. Per la tassa nel Mirino la decisione di far pagare metà dell'aumento 2013 sulla prima casa dove si è alzata l'aliquota. E poi Papa Francesco, le parole di Papa Francesco, ci sia spazio pubblico per la fede. Il sole 24 ore. Caos, Imu sulla prima casa. Fino a 10 milioni di proprietari rischiano di pagare una quota dell'imposta 2013. Governo a lavoro sul decreto incognita sulla copertura degli aumenti dei comuni sindaci in rivolta. Dal sole 24 ore. Passiamo adesso all'unità. Respinto l'assalto al Colle. Scrive Forza Italia. Al Quirinale pretende le dimissioni di Letta. Un voto di fiducia e la illegittimità della legge Severino. Napolitano dice no ma apre al passaggio parlamentare. Ne parlerò con il Premier. Il manifesto. Copia in Colle. Scrive il manifesto. Forza Italia sale al Quirinale e chiede al Capo dello Stato di certificare la fine delle larghe intese. Con l'apertura della crisi. Napolitano, dopo il lascia passare alla legge di stabilità, concede un ulteriore passaggio parlamentare. Replica del Governo del Presidente. Sul piano la carta della legge elettorale. Il mattino di Napoli. Beffa imu per Napoli e grandi città. Governo la svolta del Colle dopo l'incontro con Forza Italia. Ora verifica in aula. Letta dice saremo più forti. E poi il vertice. Tenei del Sud dal Ministro. Solo promesse. La carrozza incontra il Rettore. Ammette che la ripartizione dei fondi è ingiusta. Però si cambia dall'anno prossimo. Vediamo la gazzetta del Mezzogiorno. Giro alle camere per Letta. Decisione del Colle in seguito al pressing di Forza Italia per una crisi formale. Il Vice Premier patto con Renzi nel 2014. Napolitano dice nuova maggioranza serve un passaggio in Parlamento. Alfano l'esecutivo dipende da noi. Scontro sui sottosegretari forzisti. E poi Marò, il rischio pena di morte, riaccende il caso. La stampa di Torino. Letta richiederà la fiducia napolitano. Nuova maggioranza serve un passaggio parlamentare. Dopo la fine delle larghe intese escluso un rimpasto. Lunedì il Premier al Quirinale per concordare il percorso. Pasticcio Imu. Ecco chi dovrà pagare la rivolta dei sindaci. In media da versare una rata da 138 euro. riguarda gli 800 comuni che hanno cambiato l'aliquota. Il messaggero Imu, mini stangata a gennaio. Più pesante la quota aggiuntiva da pagare. Coinvolta anche Roma. Costo medio 80 euro. Lira dei sindaci. Non siamo il bancomat del governo. Dal messaggero alla Gazzetta dello Sport. Gagliani dà gli otto giorni al Milan. L'amministratore delegato non vuole più aspettare. O viene liberato entro la prossima settimana. O se ne va lui. Con Barbara, Berlusconi e Gelo. Anche la trattativa per risolvere il rapporto è ferma. Si parla di 50 milioni. E dopo due mesi si rivede El Sharawi. Battaglia a Varsavia. Fermati 150 laziali. Incidenti in occasione del match di Euroleague. Chaos Ultra in Polonia. Scontri con i tifosi del Legia. E con la polizia sequestrate. Armi impropriate. Poi la partita. 2 a 0 e qualificazione per la Lazio. E tutto termina qui la nostra rassegna stampa. Il prossimo appuntamento con l'informazione di Telemolisi alle 14. In diretta con il Tg. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.